40 violazioni rilevate per un importo di poco superiore ai 6.000 euro. È questo il bilancio dell'attività congiunta condotta ieri dalla Polizia Municipale di Arezzo assieme alla Polizia Stradale, lungo il raccordo autostradale di Arezzo, in particolar modo all'uscita del casello, dove si concentra maggiormente il traffico pesante anche dall'estero. Il personale della Municipale nel dettaglio ha sanzionato due autocarri per il mancato rispetto della normativa sul trasporto internazionale, un veicolo per il trasporto di merce pericolosa, due veicoli pesanti per il superamento dei limiti di massa. Una violazione è stata invece elevata con il sequestro amministrativo di un dispositivo emulatore detto Adiblu, progettato per falsare i dati della centralina motore, infine un autocarro per il superamento dei limiti di sagoma.